Lo street food di qualità torna protagonista alla Darsena con una nuova golosissima edizione di 48122 Ravenna Street Festival. In Darsena torna dopo il grande successo dello scorso anno. Lo scorso anno a settembre provavamo a fare questo evento a Ravenna e devo dire la verità, ebbe un successo talmente grande che decidemmo di fare per quest'anno due iniziative, due eventi similari in questa città. Chiaramente dovevano avere le caratteristiche, ne abbiamo fatta uno ad aprile ai giardini pubblici, che è andata molto molto bene, e dovevano avere un po' le caratteristiche di essere distanti fra di loro, da un punto di vista temporale, quindi una ad aprile e l'altra a settembre, e anche in due luoghi diversi. Quindi abbiamo trovato i giardini pubblici dove, devo dire, l'evento è piaciuto molto molto, e ci è sembrato giusto tornare in Darsena, dove era partito tutto, insomma, l'anno scorso a settembre. E i protagonisti della Kermeski sono i track food, cioè sono camioncini, si parla tanto di street food in questo periodo qua. Noi abbiamo voluto fare un progetto rigoroso, lineare, coerente, che è un po' un'evoluzione dello street, che è tutto incentrato sui track food. I track food sono camioncini che nascondono vere e proprie cucine attrezzate, capaci di preparare piatti gourmet di alta cucina, sia a livello nazionale che internazionale. Quindi in Darsena ci sarà veramente un tripudio di profumi, di colori, di sapori, a cui sarà davvero difficile rinunciare. Se volete cito qualche chicca, insomma, non so, che ne so, ci sarà il panino all'ampredotto, l'ampredotto è un piatto tipico di Firenze, viene fatto con la parte nobile dello stomaco di bue, oppure il panino col polpo alla braccia, tipico della Puglia, il panino col ragù napoletano, ci sarà le bombette di Villafranca, fra i prodotti così internazionali, dolci ad esempio ci sono i churros, che sono un dolce tipico sudamericano, un dolce molto semplice, sono dolci fritti che vengono fatti con acqua, farina, zucchero e un pizzico di sale, poi c'è la versione strong dove vengono farcite con del cioccolato fuso. Quanti saranno i track food e di Ravennate ci sarà qualcosa? I track food saranno circa 24-25 e noi abbiamo voluto cercare di diversificare anche l'offerta in un gastronomica, quindi rispetto alle due precedenti edizioni, quindi in queste edizioni qua ci sarà almeno il 50% dei track che non sono mai apparsi su questo territorio qua, quindi in questo modo anche per diversificare, per non fare un'edizione clone, insomma, rispetto a quella di aprile e maggio. Ad esempio una delle novità, una delle novità non in questo territorio sicuramente, ma ad esempio che non era presente a maggio è Casa Spadoni, che sarà presente, che è una realtà tipica di questo territorio qua, che presenterà, è un track che presenterà dei primi a base di pesce oppure degli hamburger con la mora romagnola, che è tipica, insomma, di queste zone. Grazie.